Vigilia di Verona-Torino, si gioca domani alle 15 al Bente Godi. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Cominciamo subito questa conferenza stampa con la presentazione del match di domani. Che partita si aspetta? Che partita sarà Verona-Torino? Una partita che spero sia come vogliamo interpretarla, sapendo che incontriamo un avversario secondo me capace, che ha un'identità di gioco precisa, guardavamo anche dei dati prima, è sicuramente una squadra che è oggettiva, un grande gioco in verticale, una capacità di controattacco immediata e qualitativa, una pressione importante e sicuramente è una squadra che ha avuto continuità in questo campionato. Juric, che stimo anche come persona, come tecnico, sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Ma noi non siamo nella condizione di poter esprimere il nostro gioco, la nostra aggressività contro una squadra che non ti aspetta, non è che fa della capacità di togliere gli spazi agli avversari e il loro punto di forza. Quindi mi auguro che esca fuori una bella partita per tutti quelli che la guardano. Proseguiamo con la domanda di Camillo Forte, tutto sport. Il Verona è una squadra particolare molto organizzata. Come si prepara la sfida a una formazione che non dà punti di riferimento e ti attacca e fa gol con difensori come Di Marco, Esterni, Lazzo, vicecentrocampisti, Baracca e Zaccagni, oltre alle punte di ruolo? Ma è un po' quello che dicevamo prima. Indubbiamente è una squadra che ha capacità offensiva, che ha velocità, che ha un ritmo di gioco elevato. Però anche noi abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi, quindi anche noi abbiamo le armi secondo me in grado di poterci contrapporre in maniera importante, con grande decisione. È una squadra che non è che non dia punti di riferimento, è una squadra che ha un'identità precisa, che in fase di costruzione magari dal portiere non abusa spesso, magari preferisce andare a caccia di una seconda palla o di una costruzione atta magari a conquistare degli spazi e poi riconquistando la seconda palla, diciamo, aprire sempre per poter iniziare la costruzione del gioco. È una squadra che poi utilizza la capacità di costruire a tre, costruire a quattro, inserendo magari un mediano nella linea, ha una capacità di giocare, diciamo, sulla catena in maniera importante, però allo stesso tempo è una squadra che ti permette di giocare, ti permette di poter esprimere il tuo gioco e quindi diventa una partita molto veloce. Noi dovremmo essere molto bravi, molto attenti, molto sereni nel poter sviluppare il nostro perché ogni squadra ha dei punti di forza, sicuramente delle cose che ti può concedere. Francesco Manassero la stampa. Il Toro ha imparato a vincere anche le partite sporche. Qual è lo step successivo per migliorarsi? Lo step successivo è sempre quello di volersi migliorare. Io credo che qualsiasi cosa che si stia già facendo la si può fare meglio. Questo vale per tutti, non solo per noi, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista invece della partecipazione al gioco di squadra o della fase di non possesso. La capacità che hai di poter credere in quello che stai facendo e di migliorarti quotidianamente è un nostro punto di forza, cioè noi ci crediamo ciecamente. Elena Rossin, Torino Granata.it Avendo 5 partite in 15 giorni e con la salvezza ancora da conquistare, il dosare le forze inciderà sulla scelta di titolari e subentranti? Io non ragiono in questo termine. So benissimo che in queste 5 partite tutti potranno dare il loro contributo. È già successo, l'abbiamo già dimostrato. E quindi per me questo è un aspetto assolutamente positivo. Vuol dire che il gruppo squadra crede di poter essere un gruppo squadra a tutti gli effetti e poi individualmente che possa magari giocare uno e una partita e un compagno nell'altra. Noi sappiamo, noi non dobbiamo dosare, noi dobbiamo andare al massimo. Andare a 2.000 all'ora e credere che ogni partita, che è sempre quella più importante, perché è quella che arriva prima, ci sia la possibilità di poter essere competitivi a seconda di poi chi scende in campo. Per Fabrizio Turco, la Repubblica è inevitabile un commento ancora sul 4 maggio sulle parole di Don Riccardo, ritrovare la gioia. Mister, questo è il seme che le ha piantato al Filadelfia e ha prodotto anche una comunione con i tifosi? E' l'idea che abbiamo noi di questo ambiente, è l'idea che ha l'ambiente di noi. Io non credo che si possa... Nel nostro sbogliatoio poi ci sono delle manifestazioni spesso interessanti, è una cosa che prende piede, si evolve. Abbiamo addirittura dei poster di una filosofia, si chiama Ubuntu, ed è la capacità sostanzialmente di riconoscere che tu sei quello che sei grazie a tutti gli altri. Noi non potremmo fare a meno della nostra gente, la nostra gente non potrebbe fare a meno di noi che andiamo in campo per rappresentarli. E poi tutto è in continua evoluzione. La cosa importante, secondo me, è rendersi conto che c'è un detto che dice che se sei felice facci caso. E quindi è la dimostrazione che la possibilità di conquistare un obiettivo importante, il nostro obiettivo deve farti capire che lo fai perché rappresenti della gente, rappresenti delle persone, perché lo vogliamo tutti insieme. Ripeto, secondo me non si può fare qualcosa da soli, è impossibile. Una serie di domande sui singoli con Emanuele Pastorella Ansa che le chiede che settimana è stata per Belotti, perché da fuori si ha la sensazione che gli manchi un po' il gol e questo lo renda meno sereno. Quindi gli ha detto qualcosa in particolare per caricarlo in vista del rush finale? Ma io a Andrea non ho bisogno di dire qualcosa in particolare per caricarlo così come a nessuno dei suoi compagni. Noi ci concentriamo molto dal punto di vista dei comportamenti tecnico-tattici e ci alleniamo per quello. Andrea è un giocatore estremamente competitivo, che vuole sempre il massimo da sé e da tutti noi, così come noi vogliamo da noi stessi e da lui. Da questo punto di vista è un perfezionista, vuole sempre fare meglio. Però i numeri di Andrea in questo campionato, in termini di gol realizzati e assist, dimostra che è un giocatore non solo competitivo, ma anche completo. Mirko Graziano, Corriere della Sera. Mister Lei è un allenatore che ha sempre creduto in Sanabria. Quali sono le caratteristiche che le piacciono maggiormente e quali sono gli aspetti dove può ancora crescere ulteriormente? Io credo in tutti. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Poi voi mi fate delle domande individuali, io vi rispondo perché è giusto così. Ne avevamo già anche parlato di Tony. Tony ha delle caratteristiche, delle qualità che è in grado di poter giocare con qualsiasi compagno di reparto, perché è un giocatore che sa legare il gioco, è un giocatore che ha la qualità magari dello smarcamento. Lui deve continuare a migliorare giorno dopo giorno con l'ambizione di diventare sempre più bravi, ma questo vale sia per Zazza che per Bonazzoli, che per Belotti, che per qualsiasi altro. Io credo che ogni giocatore del Toro in questo momento possa dare tanto. E il futuro per noi si chiama Verona, a me non interessa di null'altro, né per me né per i miei giocatori, lo sappiamo, siamo consapevoli. Il futuro è domani. Concludiamo con Gianluca Sartori, Toro News. Mister, due curiosità sulla vostra organizzazione del lavoro. Da qualche tempo non fate più doppie sedute giornaliere e le sessioni di allenamento sono quasi sempre al mattino. Ognuno ha il proprio metodo. Quali sono le ragioni alla base di queste scelte? Domanda che ho compreso, interessante. Ma intanto rispondo per i ritmi circadiani di ognuno di noi, per la capacità che al mattino, la capacità intellettiva è migliore da questo punto di vista. La possibilità di controllare due pasti su tre o quattro di un atleta, quindi ci dà in qualche modo la consapevolezza che si stia facendo di tutto, anche curando il dettaglio, anche per ciò che non è prettamente ciò che fa in campo. La vita di un atleta, di un giocatore, è maniacale ormai sotto tutti i punti di vista. C'è da considerare che a livello metabolico sicuramente la possibilità di allenarsi alla mattina rende il metabolismo molto più interessante da un punto di vista dell'allenamento. Quindi ormai ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano che non vale solo per noi allenarsi alla mattina. Per quanto riguarda le sedute, le doppie sedute a volte accadono, dipende dagli impegni che hai, anche infrasettimanali, ma parliamo in termini di volume di lavoro. La nostra metodologia prevede allenamenti molto intensi e con un certo tipo di volume di lavoro. Dal momento che è possibile magari raggiungere in un'unica seduta, non avrebbe senso spezzare il volume in due allenamenti, perché poi di fatto dovresti fare così. Non è che puoi fare due volumi intensi e importanti in due allenamenti, perché significherebbe poi danneggiare l'atleta stesso. Il riposo è tanto importante quanto il lavoro che svolge il campo. Mister, noi la ringraziamo, le auguriamo buona partita domani. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.